Ciao ragazzi, benvenuti in questo piccolo video short riguardo Bitcoin e ci troviamo sul grafico di Bitcoin sul time frame daily vediamo che adesso ha toccato quest'area di supporto che ci troviamo in questo momento sto valutando un rientro, o meglio, siccome ho già una posizione long su Bitcoin sto valutando se integrare un altro po' di capitale proprio in questa posizione perché potrebbe toccare questo supporto che vediamo qui in zona 39 e ripartire in questa direzione se dovesse fare una chiusura sopra questo supporto potrebbe andare a toccare quest'altra resistenza e potrebbe poi fare un piccolo ritracciamento e successivamente ripartire per andare in area sostanzialmente di bull run a mio parere che è sopra questa trend line quindi se dovesse poi arrivare in questa zona qui potrebbe essere ripartita definitivamente la bull run quello che sto aspettando ovviamente è capire anche nella giornata di domani se effettivamente ci sarà il rombazzo su questo supporto sul quale è appoggiato talmente in quest'area qua potrebbe andare anche un po' più sotto infatti se andiamo a vedere l'ombra della canela ha fatto e è andata leggermente più sotto ovviamente ragazzi questa linea di supporto è soltanto un'area non è mai una linea ben precisa quindi potrebbe andare un po' più sotto aspetterò domani o meglio, ovviamente ci sarà la chiusura stanotte aspetterò domani mattina per capire se la candela daily parte rialzista se mai dovesse esserci una chiusura per me al di sopra di questa resistenza che c'è stata nei giorni scorsi del quale avevo già parlato nel video scorso per chi mi segue potrei valutare un'anteriore entrata e diciamo valutare poi magari di rividare una parte se dovesse toccare questa resistenza e quindi fare un ritracciamento e successivamente capite quindi l'andamento quindi se ci troviamo in una fase rialzista del tutto e per tutto e quindi poi ripartire nella zona bull run che diciamo ragazzi si trova al di sopra di questa resistenza e ovviamente in questa zona, in questo range sopra i 50.000 sostanzialmente se dovesse anche addirittura rompere questa trendline cosa davvero difficile ma comunque potrebbe valutarsi una fase rialzista vediamo anche un po' quelle che sono le notizie il trend di bitcoin il trend di bitcoin è iniziato a cambiare il ritmo a favore dei dettori nel corso della scorsa settimana del fine settimana infatti ci vediamo sono 4 settimane sostanzialmente adesso è cominciata questa qui che era in fase rialzista fino a qualche giorno fa ovviamente è partita il 14 giugno i primi giorni era rialzista infatti ha toccato il 41.300 come possiamo vedere l'ombra adesso si trova ovviamente in rosso questa candela e comunque se dovesse chiudersi anche questa settimana in positivo sarebbero 4 settimane consecutive e quindi un mese ovviamente questa candela si chiuderà tra 5 giorni sarebbero sostanzialmente 4 settimane che bitcoin è in fase rialzista bitcoin sta continuando il suo corso verso l'alto all'inizio di questa settimana e sarà la ricerca di una quarta chiusura giornaliera consecutiva più alta mercoledì cosa che non penso succederà oggi sostanzialmente anche perché abbiamo visto appena visto che adesso è addirittura sotto questa area se dovesse fare una chiusura molto al di sotto di quest'area allora a quel punto ragazzi come ho già spiegato nel video successivo molto probabilmente tornerà diciamo in quest'area io penso di nuovo nell'area 35 e capire sostanzialmente cosa fare perché vi spiego un minimo più alto c'è stato qui e c'è stato un massimo più alto dei precedenti uguali ma non c'è stato il massimo più alto di questo del 20 maggio quindi essendoci stato un rimbalzo su questa resistenza se dovesse fare di nuovo un minimo anche più alto per capire diciamo davvero l'andamento realzista dovrebbe fare comunque anche un massimo più alto dei precedenti che sono stati comunque in questa zona qua mentre questo massimo ancora non ci da conferma perché sostanzialmente è uguale a questo qua del 20 maggio dovesse fare ripeto una chiusura sopra questo massimo quindi in quest'area qua sopra questa resistenza allora dati i minimi un po' più alti potrebbe valutarsi diciamo si potrebbe valutare la fase realzista se dovesse fare un minimo ancora basso quindi in questo caso non più basso addirittura sotto questo qua ragazzi sarebbe confermata comunque ancora momentaneamente una fase laterale se non addirittura ribassista poi ci saranno comunque aggiornamenti anche se questa notizia è comunque positiva il grafico di TradingView di Jazzer Bay sostiene che Bitcoin sta attualmente giocando un modello testa e spalle inverso con il primo obiettivo a 42 dollari quindi per lui arriverà in zona 42 che è sopra questo supporto e il secondo obiettivo sul grafico è 48 che potrebbe anche intersegare con lo sblocco di 16.000 Bitcoin in proprietà di Grayscale e quindi poter essere in conformità con la security exchange commission gli investimenti di GBC devono essere bloccati per un periodo di un minimo di 6 mesi prima che gli investitori possano vendere mentre alcuni sostengono che questo sarà probabilmente un evento realzista per Bitcoin non sono così sicuro che lo sarà nel breve termine ovviamente anche lui nel breve termine non vede diciamo questa fase del tutto realzista ci potrebbe essere appunto ragazzi questo aggiunto e questo rialzo si spera poi nei prossimi mesi sostanzialmente l'evento aumenta l'offerta disponibile sul mercato di 16.000 unità che è equivalente a 657.568.000 dollari al momento della scrittura Cedris pari boost il prezzo di Bitcoin subisce un pullback nel breve termine o rimane costante fino a quando non vengono assorbiti i nuovi Bitcoin sul mercato i volumi ragazzi sono davvero bassi come possiamo vedere a parte i volumi del 20 maggio sono davvero bassi quindi non ci danno diciamo nessuna grossa indicazione Grayscale appunto ha iniziato a segnalare alla SEC il 21 giornale del 2020 più tardi nello stesso anno il 21 aprile del 2020 il periodo di tensione richiesto per GBT è stato ridotto da un anno a 6 mesi quindi si sbloccheranno l'evento si sblocca bene in 30 giorni e rappresenta meno del 2% all'aggregato di Grayscale di oltre 34 miliardi di dollari di attività digitali in gestione l'index diciamo di sentiment sostanzialmente è a 38 una ancora molto positiva ovviamente si è un po' ripreso rispetto all'ultimo periodo che era sceso drasticamente a livello negativo quindi potrebbe ragazzi infatti qua ci dice l'indice Fier Green di Bitcoin è di più 25 punti da giovedì scorso e si è allontanato dalla regione extreme fear dell'indicatore sul quale si trova in questo periodo quindi la chiusura giornaliera di ieri è stata sotto avete questo supporto e quella di oggi ancora più negativa ragazzi se dovesse fare questa chiusura in quest'area qua quindi almeno penso che a meno che una candela positiva domani penso che sostanzialmente Bitcoin tornerà a scendere un altro po' e capire un po' l'andamento se vi ripeto come la vedo io dovesse fare una chiusura sopra questa resistenza su quale ha toccato nei giorni scorsi infatti le ombre hanno superato quindi hanno preso un po' di liquidità a questa resistenza se dovesse rimbalzare qui molto probabilmente riuscirà a fare la chiusura sopra questa resistenza e quindi potrebbe arrivare all'obiettivo 44 e da lì poi valutare diciamo un ritracciamento e poi magari seguire l'andamento sostanzialmente nei prossimi nelle prossime settimane per oggi è tutto ragazzi spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti di Bitcoin come vedete nel breve e soprattutto nel lungo periodo ci tengo a precisare che per me l'andatura di Bitcoin nel lungo termine è comunque in andatura realzista quindi adesso siamo in una fase di lateralizzazione ho voluto probabilmente farà un ritracciamento anche un po' più grande ma comunque nel lungo periodo sono ottimista e ci troviamo comunque in una fase realzista lasciate un mi piace a questo video mi raccomando per sostenere il canale disindicate quel tasto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao ragazzi